Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, parleremo dell'allerta meteo che interessa anche il ferrarese, ma in questa edizione parleremo anche di cronaca giudiziaria e del medico che andrà a processo per avere seguito una persona che è deceduta per il Covid, per avergli consigliato e per non aver dato il giusto peso, secondo l'accusa, a come era stato trattato questo paziente. Parleremo in questa edizione però anche di stagione ai Lidi, perché si stanno tirando i bilanci e sono molto positivi, dicono da Ascom c'è stato un aumento rispetto alle affluenze, alle presenze pre-pandemia. Sempre in questa edizione però parleremo anche di Spalo, ovviamente, che è attesa nella sfida casalinga contro il Palermo domenica. Ma apriamo con questo fine settimana di questo lungo ponte dell'8 dicembre all'insegna del maltempo. Sono diversi gli eventi saltati in città e in provincia, ma intanto c'è l'allerta arancione che tiene tutti gli addetti ai lavori pronti per ogni evenienza. Allerta arancione fino a domenica sulla pianura ferrarese, nel Bolognese e nel Ravennate, per criticità idraulica, ossia per possibili rischi legati alle piene dei fiumi. A disporla sono l'ARPAE, la Protezione Civile Regionale, allerta gialla per vento, stato del mare, rischio costiero, sul litorale Comacchiese, Ravennate, Cesenate e Riminese e a Lidovolano. Dopo i danni e i disagi causati dalle scorse andate di maltempo, la tensione rimane alta nelle prossime ore. Le condizioni del mare sotto costa, viene sottolineato, potrebbero generare localizzati fenomeni di dissesto, erosione e ingressione marina, anche a seguito dei danni alle dune e invernali causati dalle precedenti mareggiate. Nella tarda mattinata è prevista un'intensificazione del vento lungo la fascia costiera, con venti di burrasca moderata e mare a largo da molto mosso ad agitato, allerta gialla per neve invece sulle alture del Parmense e del Piacentino. La quota neve si abbasserà rapidamente nel corso della giornata, passando dai 1200 ai 600 metri per effetto delle penetrazioni di aria artica nel bacino del Mediterraneo. La prossima settimana comincerà poi con un temporaneo miglioramento nella giornata di lunedì, caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Il maltempo però è di nuovo dietro l'angolo. Da martedì 13 e più ancora nelle giornate di mercoledì e giovedì, torneranno le precipitazioni che potranno risultare nevose anche in pianura sul settore occidentale della regione. Maltempo che ha spinto gli organizzatori di diversi eventi in città come in provincia ad annullare gli appuntamenti di domenica come il concerto previsto al Parco Marco Coletta, posticipato ad altra data, e gli eventi in vari comuni come a Codigore, non solo. E ora parliamo del caso dell'uomo deceduto per le complicanze portate dal Covid a processo. Dovrebbe andare il medico che gli aveva consigliato terapie alternative. Sarà processato il medico reggiano Alberto Dallari, accusato dalla procura di Ferrara di omissione di soccorso nei confronti di un uomo di 68 anni di corporeno nel Centese, morto nell'ottobre del 2021 per le conseguenze del Covid. L'uomo non vaccinato e no vax convinto nella prima fase della malattia era stato curato via telefono da Dallari ed era stato portato in ospedale quando la sua condizione clinica, secondo la procura, sarebbe stata già compromessa, morì dopo un mese di degenza in terapia intensiva all'ospedale di Cona. La procura ferrarese imputa al medico non tanto la cura del Covid a distanza con sostanze tipo colchicina e invermectina, un vermifugo inserito in alcune terapie alternative, quanto di non essersi attivato quando le condizioni del paziente erano peggiorate. L'uomo aveva deciso di affidarsi a Dallari sul suggerimento di un'amica, i due non erano entrati in contatto attraverso l'associazione Ippocrate.org della quale comunque Dallari faceva parte, ma che non è coinvolta in questa vicenda, l'associazione nei mesi scorsi era stata al centro delle polemiche anche per l'organizzazione di un convegno in Senato sulle cure domiciliari al Covid che aveva scatenato un forte dibattito politico. E ricorderemo tutti il grande impegno e sacrificio profusi dai sanitari nei periodi più drammatici della pandemia. La banca Biper ha erogato un contributo alle famiglie degli infermieri deceduti durante la lotta. Sentiamo. Biperbanca ha provveduto ad erogare un'ulteriore tranche di 100.000 euro alle famiglie più bisognose degli infermieri deceduti a causa del Covid-19. In base a quanto previsto dal bando, uniti oltre le attese, l'attività è avvenuta secondo un riparto ispirato alle logiche definite nel bando che ha tenuto conto di diversi criteri, come ad esempio la composizione del nucleo familiare dell'infermiere deceduto, la necessità di sostegno psicologico e sanitario ai familiari, l'esistenza di un contratto di affitto mutuo e la presenza nel nucleo familiare di figli studenti o soggetti con disabilità grave. A settembre dell'anno scorso i primi 100.000 euro alla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, attività di beneficenza indiretta a favore del Fondo Noi con gli Infermieri, creato dalla Federazione stessa. Poi nel mese di febbraio del 2022 altri 100.000 euro sono stati dati direttamente alle famiglie delle infermieri deceduti a causa del Covid-19 che, aggiunti a questi ultimi 100.000, raggiungono il totale di 300.000 euro. Cambiamo totalmente argomento. Una stagione ai lidi comacchiesi soddisfacente è tornata su buoni livelli e anche migliori del periodo prima della pandemia, lo dicono da Ascom Confcommercio. Sentiamo quali sono questi dati. Più 6,6% di crescita complessiva dei lidi rispetto al 2019, ovvero prima della pandemia, è quanto emerge dai dati turistici relativi ai lidi di Comacchio e sui primi dieci mesi dell'anno, da gennaio ad ottobre 2022, che mostrano alcuni elementi di rilievo significativo. Questo è il commento Gianfranco Vitali, presidente della delegazione Ascom a Comacchio, nei periodi di bassa stagione, da gennaio a maggio e da settembre a ottobre, l'incremento rispetto allo stesso periodo pre-pandemia è stato del più 22%, con una punta del più 46% per l'ottobre scorso rispetto allo stesso mese del 2019. La tendenza all'allungamento della stagione è già in atto nei fatti, aggiunge Vitali, come evidenziato nel corso del convegno organizzato e promosso da Ascom Confcommercio all'inizio di dicembre. Ora prosegue Vitali e il caso di programmare, nei prossimi 100 giorni, che ci separano la Pasqua 2023, una serie di eventi che rendono ancora più attrattiva la costa, anche nella bassa stagione, potenziando ulteriormente la collaborazione tra pubblico e privato. Tra l'altro, aggiunge Vitali, in termini percentuali Comacchio ha fatto meglio degli altri comuni rivieraschi della Romagna, considera il presidente della delegazione Ascom. L'emergenza sanitaria ha cambiato le abitudini dei turisti, che chiedono spazi aperti, e di questo certamente la costa ne ha beneficiato. Dice Vitali, che fa riflessioni anche su un altro elemento, che è la crescita importante della componente turistica straniera, sempre rispetto al 2019, in testa alla Svizzera e l'Austria, rispettivamente, con un più 32% e un più 17,9% tallonate dalle presenze tradizionali provenienti dal nord Europa, ovvero tedeschi e olandesi. Ora i turisti esteri si attestano complessivamente al 33%. Insomma, conclude Vitali, la strada per l'allungamento della stagione turistica è già tracciata. Più efficienza energetica, sviluppo delle rinnovabili e forte accelerazione nella riduzione delle emissioni gas, Serra, sono gli obiettivi che la regione punta a raggiungere nei prossimi tre anni, con investimenti per 8,5 miliardi di euro, risorse che in Emilia Romagna saranno dispiegate su tre grandi asset. Settiamo quali sono. Tre bandi vogliamo essere coerenti, oggi in aula andremo verso l'approvazione, devo anche dire con una discussione di grande responsabilità da parte di tutti i gruppi consigliari. Oggi siamo coerenti con tre bandi. C'è la grande aspettativa sul bando delle comunità energetiche, siamo pronti, vuol dire che è già stato deliberato, è deliberato anche il bando per l'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese, 13 milioni di euro, ed è già stato deliberato il bando per gli edifici e l'efficientamento pubblico degli edifici pubblici della pubblica amministrazione per 30 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di 48 milioni di euro, ma stiamo parlando dei primi bandi. È una sterzata anche culturale, il mondo va lì. Quindi certamente governiamo la transizione a gas, ma macchina avanti tutta sulle rinnovabili perché sta diventando molto conveniente fare investimento nella diversificazione delle fonti rinnovabili. Fare fotovoltaico, fare eolico, fare biogas, biometano, quindi energia di prossimità sta diventando molto conveniente. Anche la finanza si sta spostando lì. Anche grandi fondi vogliono fare investimenti in questa regione, sulle rinnovabili. Ovviamente tutti devono stare alle regole che abbiamo dato, ma guardate che ci stiamo spostando notevolmente in questa regione, in quella direzione. Diciamoci una verità, se vogliamo dare una risposta alla portata della speculazione finanziaria che c'è in atto, la taglia non è regionale, è sempre europea. Quindi per correttezza non è che con questo piano energetico nell'immediato diamo una risposta alla bolletta, diamo una risposta alla sterzata del nostro futuro indispensabile. E di fronte alla crisi dello Stato sociale, ai nuovi e vecchi problemi che hanno investito la società e che trovano anche a Ferrara terreno fertile per mettere alcune categorie di cittadini in forte difficoltà, si sono create nuove alleanze nella società civile, tra questa e le istituzioni pubbliche, per affiancare lo Stato nel sostegno ai cittadini più fragili. Ma che cos'è il secondo welfare? E' la domanda che abbiamo posto alla dottoressa Valeria De Tommaso, ricercatrice dei percorsi del secondo welfare. Allora sentiamo la sua risposta. Per comprendere cos'è il secondo welfare, dobbiamo prima partire appunto dalla definizione sintetica di primo welfare. E quello che intendiamo per primo welfare è l'insieme di interventi di protezione e investimento sociale che sono erogati direttamente dal pubblico, dal welfare pubblico. Ad esempio le pensioni, le indennità di accompagnamento, l'invalidità civile, quindi con l'obiettivo di fare conti ad alcuni rischi sociali che ciascun individuo è obbligato in talvolta a vivere durante il corso della propria esistenza. Il secondo welfare risponde con le stesse logiche, ma guardando a risorse di tipo prevalentemente privato. Quindi agisce nel territorio e fa riferimento a quell'insieme di interventi, di servizi erogati da attori privati, come aziende, enti del terzo settore, quali associazioni di promozione sociale e di volontariato, oppure fondazioni di origine bancaria che all'interno del territorio erogano servizi di, anche essi, protezione e investimento sociale, ma a finanziamento prevalentemente privato, in integrazione alle risorse del pubblico, quelle erogate dalle municipalità, ad esempio, oppure dall'assistenza sociale in senso stretto, quindi con finanziamenti di tipo pubblico, e servizi sociosanitari, per esempio, se facciamo riferimento agli anziani, servizi di assistenza domiciliare, oppure come ADI e SAD a livello territoriale. Un requisito fondamentale per il secondo welfare è che appunto i suoi servizi sono forniti da una vasta gamma di attori economico e sociali, dicevo prima associazioni di promozione sociale e di volontariato, che sono collegati in rete e hanno quindi un forte radicamento territoriale. A che punto siamo in Italia con lo sviluppo di questi percorsi di secondo welfare? L'Italia è un caso molto virtuoso in Europa per lo sviluppo del secondo welfare. Ci sono molteplici esperienze di secondo welfare, soprattutto nel nord Italia, ma negli ultimi anni stiamo osservando dei cambiamenti sempre più positivi anche nel sud Italia, sia dal punto di vista della costruzione di reti territoriali. Gli attori all'interno del territorio sono sempre più in rete, coprogettano, quindi progettano degli interventi, dei progetti insieme, progetti che hanno come obiettivo quello di appunto prevenire l'esclusione sociale dei più deboli, ma anche di rispondere a dei rischi sociali concreti. Prima facevo riferimento all'invecchiamento, ma possiamo anche parlare di servizi per l'infanzia, oppure appunto di povertà educativa minorile, materiale, quindi bisogni sempre più multidimensionali, e anche dal punto di vista finanziario. Quindi vediamo sempre più risorse che provengono da fondazioni di origine bancaria che investono nei loro territori per creare delle reti di supporto alla comunità. Quindi direi che l'Italia è uno dei casi più virtuosi e negli ultimi anni, soprattutto con l'avvento del Covid, abbiamo visto uno sviluppo molto più, un'accelerazione molto importante. Il CADF, la società che gestisce il ciclo dell'acqua nella provincia ferrarese, si è aggiudicato un premio. Sentiamo quale. Il CADF ha vinto l'Oscar di bilancio 2022 nella categoria Medie e piccole imprese non quotate, 310 candidati da tutta Italia, cerimonia avvenuta a Milano. Un premio promosso da FERPI, la Federazione delle Azioni Pubbliche Italiana, insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi, per la cura dei rapporti con gli utenti e la condivisione dei risultati raggiunti, come viene riportato nelle motivazioni dell'assegnazione del premio, si tratta di un riconoscimento alla qualità del servizio erogato e di un'attenzione a un bilancio che non è solo economico, ma vuole promuovere attenzione e sostenibilità con l'ambiente, idealmente assegnato anche agli 11 comuni associati e ai suoi cittadini. Sport adesso è arrivata a compimento l'accessione da parte del comune alla SPAL dei campi da gioco di Malborghetto, già in concessione all'associazione sportiva dilettantistica Accademia SPAL per l'attività dei calciatori più giovani. Pulcini, da qualche tempo il club aveva manifestato l'interesse all'acquisto dell'area di Via dei Rosetti, acquisto perfezionato nelle ultime settimane, l'immobile era stato inizialmente inserito nel piano agli nazioni del comune di Ferrara e quindi è stato acquistato al terzo ribasso d'asta dalla SPAL, l'area acquisita per oltre 382 mila euro e di oltre 20 mila metri quadrati per il presidente biancoazzurro Tacopina, l'area diventerà il secondo polo del club dopo il centro sportivo GB Fabri in Via Copparo. Parliamo adesso di calcio giocato, sempre di SPAL, biancoazzurri di nuovo in campo, domenica alle ore 15, allo Stadio Mazza, di scena il Palermo, vi ricordo me c'è in diretta su Telestense per aggiornamenti e commenti con Nicola Franceschini e i suoi ospiti, questo è uno scontro diretto dopo il pareggio col Perugia, partita che non ha soddisfatto l'allenatore biancoazzurro De Rossi, sentiamolo. Non mi è piaciuto moltissimo, anche se siamo partiti bene, abbiamo fatto 20-25 minuti, secondo me fatti bene e poi siamo un po' andati tanto, troppo dietro alla loro maniera di giocare, che è sacrosanta, che è riconoscibile, che fanno bene a sviluppare in quella maniera, ma noi avevamo parlato di andare contro questa squadra in un'altra maniera e c'è stata anche poca pulizia, secondo me, a livello tecnico, nei passaggi, negli sviluppi, nelle finalizzazioni e nel passaggio prima dell'ultimo passaggio, quindi ero un po' rammaricato per questo, ero rammaricato perché penso sia una squadra più forte del Perugia che poteva vincere tranquillamente. Domani arriva il Palermo, altro scontro diretto, tale lo possiamo definire, l'obiettivo è quello di trovare in particolar modo nuovamente i tre punti, ma anche di mettere in condizione gli attaccanti, l'hai sottolineato tu in precedenza, è mancato un po' l'ultimo passaggio, di rendersi pericolosi, oltretutto ti mancherà Moncini, in merito a quale soluzione pensi di adattare? Le soluzioni sono veramente molteplici, oggi veramente ancora non ho deciso chi giocherà ed è probabilmente la prima volta rispetto a tutte le volte che vengo da voi e faccio finta che non ho deciso, ma stavolta veramente ho dei dubbi anche perché bisogna vedere come escono, come rimangono i giocatori dopo questa partita, dopo questo viaggio, dopo questo ritorno, il pullman comunque a volte ti fa giocare un tempo in più, è come se avessimo giocato tutti quanti un tempo in più e quindi vediamo un po' come stiamo, vediamo domani mattina come ci svegliamo, ma le alternative sono quelle, insomma, i giocatori che possono essere un'alternativa a Moncini ne abbiamo e quindi sono abbastanza tranquillo dal punto di vista. Ecco, hai parlato di intensità, è uno degli elementi che sembra mancare a questa squadra, è un problema mentale, può essere anche un problema fisico, avete forse cambiato la preparazione quando siete arrivati qui a Ferrara, dall'esterno si ha un po' questa sensazione, potrebbe essere anche un problema legato alle caratteristiche dei giocatori. Può essere tutto, noi non abbiamo cambiato niente riguardo quello che facciamo i primi periodi, sicuramente è un modo di allenarsi, è un modo di fare allenamenti diverso da quello che facevano prima che arrivassi io, questo è inevitabile, però non vedo grossi problemi fisici, anzi, vedo magari, cambieremo preparato atletico, cambieremo allenamenti, cambieremo invece, forse abbiamo cambiato allenatore, io vedo Galliello fisico, noi finiamo la partita sempre andando forte, abbiamo finito la partita in maniera un po' confusa, ma con un difensore centrale dentro l'aria che aveva fatto un anticipo, si era inserito, spingendo forte, come avete detto voi, gli ultimi 10-15 minuti siamo sembrati abbastanza arrembanti, non bastano assolutamente, però se non fosse una squadra intensa e forte fisicamente, crollerebbe molto prima. Appuntamento quindi con Spal Palermo in tutti gli aggiornamenti e commenti in diretta con Match poco prima delle ore 15 su Telestense. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del Telegiornale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!